Giunta la sua decima edizione, dall'8 al 10 luglio riparte l'appuntamento estivo più atteso da Novilara. Tre giorni di evento dove l'arte incontra il gusto e dove le tagliatelle fatte a mano incontrano il vino prodotto artigianalmente. Novilara Arte e Gusto è un'iniziativa immersa nel suo borgo storico, il tutto a due passi dal mare, tra il verde delle colline pesaresi. Iniziamo il venerdì, quindi l'8 luglio alla sera e avremo 30 e oltre cantine in degustazione per un percorso degustativo lungo la cinta muraria. Sono vignaioli artigianali principalmente da fuori regione. Ci piace questo perché arricchiamo il nostro già programma degli anni passati dove abbiamo un richiamo sulla tradizione gastronomica molto importante come le tagliatelle di Novilara, ma non solo tutti i piatti locali della tradizione pesarese. La cosa bella è che quest'anno aggiungiamo anche l'olio perché avremo collaborazione con la DOP di Cartoceto e questo per noi è un vanto perché arriviamo a toccare tutte le nostre eccellenze del territorio. Dal punto di vista artistico, il venerdì avremo ospite Maria Piatimo che è un'attrice e cabarettista. Invece nella giornata di sabato dove avremo sempre la degustazione dei vini abbiamo chiamato Marta e Gianluca che sono un duo di Zelig famosissimi, simpaticissimi e quindi una serata più in simpatia legata poi a un cooking show con dei blogger sia food che travel che vengono da fuori per anche far parlare delle nostre eccellenze al di fuori della nostra regione. Chiudiamo la domenica, il 10 luglio, alla mattina per chi vuole ci sarà anche un giro in moto e in bicicletta perché c'è la ciclo tagliatella ma anche la moto tagliatelle per gli amanti delle due ruote come volete quindi sia motorizzati che non e ci sarà appunto un percorso ovviamente diversificato di conoscenza del territorio per poi concludersi a pranzo a Novilara. È solo su prenotazione, vi chiediamo di farlo e chiudiamo poi la domenica alla sera dove c'è un percorso di degustazione olio e vino che è molto particolare anche questo è numero chiuso e su prenotazione alle ore 19 e poi la manifestazione continua con dei concerti, degli spettacoli da Obelisco Nero a Vitamax che è un gruppo di Milano e quindi è una manifestazione che raccoglie tantissime cose e quindi non vediamo l'ora di condividerlo con voi.